Camilla, tu sai dire pa pa, dici pa pa, Camilla, non ti devi girare di là, altrimenti non imparerai mai, devi guardare il mio labiale, allora, no, AUG, AUG, che è l'indiano, pa pa, sai dire pa pa, 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 ecco, bravo, dici, dici, dici pa pa, dici pa, no, mangi il dito, Camilla, no, devi dire pa pa, posso dire pa pa, papi, è arrivata la rompiscatola, adesso non ti posso insegnare più niente, dimmi Marta che c'è, andiamo a fare un nuovo video sul mio canale, no Marta, io video con te non ne devo fare, adesso devo insegnare a Camilla a dire pa pa, quindi non ci voglio venire, basta, vai tu a partita, perché, non ci voglio venire, perché Akinator l'altra volta, nell'ultima challenge che abbiamo fatto, ha detto che tu sei più famosa di me, allora vatti a fare la challenge tua Akinator e tutti i video, e io non li voglio fare più, ciao, devo insegnare a Camilla, papi, ma io ho letto nei commenti che tutti i pollicini ti stanno cercando, i pollicini che mi stanno cercando, dove mi stanno cercando, Marta? Su Akinator, no, ma veramente, i pollicini cercano me, allora adesso mi avranno cercato in 150.000, adesso sarò molto più famoso di te, allora possiamo fare un altro video, facciamo così, facciamo un bel video, no Camilla non piange, non piange, dopo torno e ti insegno papà, adesso vado a fare un video con Marta, perché facciamo una challenge da Akinator, due, la vendetta, così vinco, perché i pollicini stanno cercando proprio me, andiamo Marta, andiamo a fare questo video, andiamo, dai Marta, registriamo, devo vincere questa challenge, vai vai, vincerò io, ragazzi, ecco qua, allora, dai Marta, vai, vai, scontando invece, devo vincere la challenge, uno, due, via! Ciao a tutti, e benvenuti, magari, Policini, come state ragazzi? Tutto bene? Sono troppo contento perché vincerò la challenge, papi ma non è sicuro? Non è sicuro, ma le cina, non vado per me, ragazzi, oggi faremo la Akinator challenge 2, dove vince papi, perché papi è il più famoso del mondo, grazie alle vostre votazioni, Vabbè, però poi dobbiamo vedere anche a me, ma noi iniziamo subito perché dobbiamo vedere quanti pollicini hanno cercato papi, papi, sono insieme, sono l'emozione, sì, però non devi fare troppo veloce, se no non capiscono niente, Akinator, Akinator ragazzi vincerò io, allora, il tuo personaggio è femmina, no, sono maschio ragazzi, il tuo personaggio famoso, grazie a YouTube, sì, sono famosissimo, il tuo personaggio è un canale YouTube di videogiochi? No, 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 non ce l'abbiamo, il tuo personaggio è finanziato con uno YouTuber? No, è uno YouTuber? Eh sì, dai, è conosciuto col proprio nome e cognome? No, ha che fare con il mondo dei videogiochi? No, alla barba? Sì, Marta ha già capito, Marta ha già capito, Lavora solo? No, fa parte di un duo? Io e Marta? Sì, si è mai tinto i capelli? No, viva Milano? No, non sta capendo niente, Bologna? No, è del sud Italia? Sì, ragazzi, viva la Sicilia? No, vive Napoli? Sì, ha mai avuto figli? Certo, tre, il personaggio ha mai girato un video con sua figlia? Sempre, sempre, ha più di un figlio? Sì, papi di Marta viva, attravo subito ragazzi, vediamo quante volte papi è stato cercato su Akinator così, vinco la challenge, batto Marta, Marta l'altra volta era 60, 61, quant'era? Non mi ricordo, ecco qua, 85 volte, campione del mondo di Akinator, sono il più famoso del mondo, sono il più grande di me! Papi, papi, ma ora dobbiamo vedere me? Che ne sono, tu ce l'avevi 60, io ce l'ho 85, sono famosissimo, vediamo tu, perché dobbiamo vedere, che ne vediamo a fare ho vinto la challenge ragazzi, va bene, dai, vediamo anche Marta, ma tanto ti ho schiacciato, Marta, ti ho schiacciato, il tuo personaggio è stato scoperto grazie a YouTube? Sì, è un videogiocatore? No, e poi, il tuo personaggio indossa abiti maschili? No, il tuo personaggio lavora in coppia? No, ah sì, sì, ha ragione, lo sbaglio, torniamo indietro perché Akinator ce lo fa fare questo, sì, è uno dei mei contro te? No, ragazzi, sarebbe stato bene avere qua sofiscalia, il tuo personaggio ha un tatuaggio? No, te l'ho detto per l'altra volta, è fidanzato? No, ha un fratello più piccolo? Sì, il tuo personaggio gira video con suo padre? Hai dovinato già questo, il tuo personaggio è una sorella più grande? No, ragazzi, Marta B, brava Marta, ma io ho vinto la challenge, cari ragazzi, è stato un piacere, mi raccomando, dite voi quale deve essere il impegno che deve... 556, papi, ma dai, vieni, è stato un gioco, hai visto, papi? Iscriviti al nostro canale